Prego, benvenuti! Chi sei? Sono Nicolas, faccio il barbier. Questo è il mio empire. Oggi siamo qua con Handel per fare qualche foto e inaugurare la nuova location. Andiamo! Let's go! Tu, solo? Sì, per te stesso? Sì. Devi qualcuno per aiutarti. Sì, no! Come stai, Mattia? Io sto bene, tu sei bene? Tutta bene, grazie. Sei informa? Sì. E' un video questo. Sì, sempre. Sei il numero uno. Tu sei anche. No, no, tu sei il numero uno, io sono il numero due. Quindi, quando c'è Si, con il numero uno, io è un numero uno maやって io secondo il più Creare Daise Il secondo viene è il tuo turno? yeeey andiamo perfetto oggi siamo qua a tagliare Andrew con il locale chiuso e siamo qua solo per lui di lunedì giorno di chiusura monday it's like sunday questa era tutta artistica abbiamo finito ciao